Torna all'appuntamento con EnergyMed, evento organizzato da ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, è giunto alla dodicesima edizione. Dal 28 al 30 marzo alla mostra d'oltremare con i professionisti dell'energia, della mobilità sostenibile, del riciclo e dell'automazione. Ampia sezione espositiva, più di 20 convegni tematici, incontri B2B, premi ed iniziative speciali. L'evento è promosso da Comune di Napoli e Sitelum. Con il supporto della città metropolitana e arriva Italia. Stamani la presentazione alla Camera di Commercio. La tre giorni è rivolta agli operatori del settore, ma non solo, visto che per il secondo anno l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori. EnergyMed è il luogo ideale perché tecnici, professionisti, imprese, possano aggiornarsi sulle novità che ci sono in termini di finanziamento, che sono importantissimi, sulle novità in materia di normative che riguardano l'edilizia, l'impiantistica, gli incentivi per le auto a basse emissioni e anche l'occasione di incontrare imprese che distribuiscono e vendono questi prodotti per aumentare le proprie chance di lavorare nel settore ambientale. Quindi è una fiera per operatori, ma è aperta anche a tutti i cittadini e i curiosi che sempre più sentono parlare di cambiamenti climatici di clima impazzite e ad EnergyMed possono capire come fare per dare il proprio contributo e quindi trovare pannelli fotovoltaici che producono energia elettrica dal sole, caldaie più efficienti, macchine che consumano e inquinano il meno possibile perché il problema non è solo cercare l'auto, acquistare l'auto perché è bella, ma bisogna incominciare a cercarla perché consumi e inquini meno. EnergyMed 12 anni fa era un evento utile e sicuramente innovativo, oggi è diventato un evento necessario perché l'impegno sulla sostenibilità ambientale è ormai una priorità in tutti i contesti evoluti e in quelli che vogliono evolversi, quindi anche la manifestazione alcuni giorni fa, ma anche alcuni provvedimenti governativi che cominciano a metterci in linea con quello che in altri paesi europei ormai è routine e normalità da 20-30 anni, ci dimostrano appunto che è un evento del genere che poi è la punta dell'iceberg del lavoro quotidiano che Anea, l'Agenzia Napoletana di Regia Ambiente, svolge per 365 giorni all'anno. È davvero, ripeto, fondamentale un evento del genere in grado appunto di coniugare istituzioni, aziende, addetti ai lavori e anche aperto al pubblico perché per il secondo anno avremo l'ingresso gratuito per tutti. La maggiore innovazione al settore della pubblico illuminazione che ha comportato una vera e propria radicale trasformazione, se vogliamo, del nostro comparto economico è stato l'avvento dei LED. Questa tecnologia è molto importante perché consente una riduzione dei consumi dell'energia elettrica dell'ordine del 60-70% rispetto ai consumi storici. È un'iniziativa lodevole, interessante, noi come Gruppo Arriva operiamo nel campo della mobilità, siamo uno dei leader mondiali nel campo della mobilità passeggeri, sia su gomma che su ferro, in Italia con una ampia presenza e abbiamo sposato questa iniziativa come partner perché riteniamo che il tema della sostenibilità ambientale va a braccetto con il tema della mobilità sostenibile.